I lavori della piscina di Ghedi non sono stati fatti a regola d'arte, questa l'accusa dell'opposizione nei confronti della maggioranza, sotto accusa il telo della piscina che non sarebbe stato attaccato bene. Il sindaco di Ghedi ha giustificato l'inconveniente dicendo che i lavori si sarebbero potuti fare, rischiando però di mettere a repentaglio una stagione e con costi molto elevati, da qui la scelta di lasciare il telo momentaneamente in attesa della fine della stagione. La polemica nasce dal fatto che il telo della piscina facilmente non è stato in un punto saldato bene, può essere anche una saldatura di un centimetro, avendo anche parecchie parti rotonde, quindi un telo particolare da posare ha una piccola infiltrazione e fa andare l'acqua sotto e quindi ha sollevato leggermente il telo. La ditta che l'ha realizzata e chi l'ha gestita ce l'ha comunicato subito e da subito hanno dato la loro disponibilità a fare l'intervento. Noi come amministrazione abbiamo scelto, anche per una questione economica, di non sprecare giorni, di farla a fine stagione, quando la vasca sarebbe stata vuotata. Ci sono anche degli interventi che durante la stagione sono emersi, come la segnalazione dei gradini, la segnalazione della fine della corsia per chi fa nuoto, tutte queste cose, sono emerse e abbiamo deciso, la società ha dato la sua disponibilità a affrontarla. Come dicevo anche prima, visto che c'è stata una buona risposta da parte della popolazione sotto l'aspetto dell'uso, la società si è data disponibile anche a migliorare quello che erano le parti esterne, quindi ha deciso di fare un parco giochi per bambini, un campo da beach volley, tutte delle opere aggiunte per rendere sì che questa struttura venga utilizzata in pieno dalla nostra popolazione.